Hanno preso il via da lunedì 17 maggio le prenotazioni dei 40-49 anni per la vaccinazione anti-Covid. A margine di una conferenza relativa alla ricostruzione post-sisma, il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha affrontato le tempistiche anticipando che i quarantenni saranno vaccinati alla fine di giugno. Emilia-Romagna è in testa sulle vaccinazioni dei più fragili e dei più anziani. Io trovo giusto che si completino prima le vaccinazioni di coloro che nel 95% dei casi a 60 anni in su sono i casi di decesso, drammatici, rispetto a un quarantenne che sta bene. Per questo noi quarantenni abbiamo aperto le prenotazioni perché siamo persone serie, ma li faremo verso fine giugno probabilmente. perché noi vogliamo completare, visto che siamo molto avanti, le vaccinazioni delle persone più anziane o quelle per età più a rischio insieme alle persone anche più giovani che abbiano patologie o disabilità tali che meritano un intervento di vaccinazione per ripararli. D'altra parte il crollo dei contagi nel Paese, in Emilia-Romagna, è legato anche e soprattutto a questo. Grazie.